un giorno costruirai la tua casa proprio come la vorrai potrai decidere tu la forma e i colori delle finestre troverai che farà una finestra proprio così come la vuoi tu e anche le porte saranno belle e dureranno nel tempo ieri, oggi, domani, i serramenti proprio come li vuoi tu Reveane Serramenti